Immediata consegna parziale delle rampe del sottopasso di via Alfani via Torino entro e non oltre tre giorni. Questo in sintesi il contenuto dell'ordinanza emessa dal sindaco di Ponte Gagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed inviata a rete ferroviaria italiana. Un modo per mettere la parola fine ad una telenovela che dura dall'estate e che ha creato non pochi disagi ad automobilisti e residenti. I lavori si legge nel provvedimento sono di fatto ultimati e la consegna delle aree non influisce in alcun modo sul completamento del collaudo dei lavori da parte di rete ferroviaria italiana che potranno proseguire senza alcuna limitazione o pregiudizio.